salve a tutti e bentornati dal vostro luigi frio 85 come potete ben vedere beh la beffana arrivati in anticipo per me e sì per chi non lo sapesse io tifo due squadre di calcio il bologna sono bolognese e il milan poi nella mia famiglia c'è anche chi tifa juve per l'amor di dio non posso mica dirgli no ma poi piacciono tutte le squadre in particolare il milan perché è quella che ha la maglietta che assomiglia un po di più a quella del bologna e oggi mia mamma mi ha portato questa la calzetta del milan e adesso andremo a vedere insieme che cosa c'è dentro ed ecco a voi il video eccoci qua ovviamente devo far tutto con una mano perché non ho due mani ne ho una sola e quindi farò un video un po a mano ok ce l'abbiamo fatta apriamo anche l'altra parte non voglio rovinare la calza perché mi piace poi è anche carina già il chimico non potrà contraddire dire no non è vero Luigi non è la stessa cosa ma chi se ne frega pronti disse il mago la strega chi se ne frega e mi aspettavo i cioccolati dei milan ma soprattutto voglio vedere la sorpresa oh madonna mia ok cioccolato che cavolo c'è qua dentro se c'è un topo morto mi arrabbia sa che c'è i topo in cantina però se c'è un topo morto oh cavolo andiamo all'ara infusa all'ara invaggio aspetta uh beh il calzino è finito magari un piede di un bimbo qua ci sta magari ne compriamo due domani uno sa dei bambini fa compro due allora abbiamo trovato tutto originale milan figata assurda cioccolatino del milan fondente milan latte milan e di nuovo fondente milan facciamo così che mi piace di prima mettere in lista in lista prima questi qua guardiamo un po come sono belli sono proprio bellissimi ammetto che mi piacerebbe però guardate questi sono buonissimi so perché li ho già assaggiati e veramente meritano il giochino del milan fighissimo assurdo io vado giù di testa per i braccialetti io sono un fanatico di braccialetti orologi e compagnia bella questo non so che cosa sia attenti a leggere vediamo se qualcuno riesce a riesco a mettere a zoomato ok attenzione qualificato è made in cina ovviamente mi ci sarei giocato il cappello se era fatto made in italy però e qui ovviamente come avete già visto prima altri cioccolatini sempre del milan e da befana è già arrivata a casa mia va bene adesso vediamo un attimo che cosa è questa eccoci qua la cosa è assurda adesso un attimo che tolgo la luce del telefonino c'è dietro una pila e assurdità se io la premo in tre modi diversi c'è una cannonata fa tutte ste lucine che sono un po da crisi epilettica per chi ne soffre purtroppo ma nel mio caso io vado giù di testa queste cagate qua c'è scagate sono cose che piacciono ai bambini ma sinceramente piacciono anche agli adulti come me di 32 anni questo sinceramente me lo porterò sempre appresso cercavo un braccialetto nuovo da mettere adesso l'ho trovato e questo è tutto se ce la facciamo sì ok scusatemi era un attimo di sbieco un attimo e questo è tutto dal vostro luigi free 85 adesso faccio una cosa che nessuno si direbbe mai pronto a vedere vado a mangiare un pezzo di cioccolata al latte che mi ha mia preferita fondente non mi piace mi dispiace la fondente a me non piace io per fortuna diabete non ce l'ho anzi ho gli zuccheri che sono sotto i piedi e se soltanto mangio un po troppo di zucchero cominciò a tremare un po di adrenalina zuccherosa va bene allora questo è tutto per tutti voi una buona befana in anticipo di un paio di giorni se non vado errato e ma sì questo è tutto dal vostro luigi free 35 lasciate un like qua sotto diecimila like prossimo video e qualche commento se volete vedere altri video del genere ciao